Allora, Dementra, io ti conosco, conosco praticamente tutti i ragazzi che sono qui presenti. Cosa ci fai ascoltare? Senza di me è una ux. Allora, senza di me è una ux, così si dice. Sarebbe facile guardarsi e bene scivolarmi, ma la mano mia cade nella tua e col fatto che si resta amici. Com'è giusto che sia, scarto l'idea di dove andare a te. Senza di me, cosa si fa nei pomeriggi? Troppo blu, senza me, che sarai a darti un bacio di più? Sarebbe contine parlare ancora dei problemi a me. Li conosci e sai, che mi arrabbirei, così mi chiedi se ho mangiato o no. Che bambino sei? Non cambi mai, perché non dici che... Senza di me la vita è stata di fumo e di malinconia. Senza di me è libertà e dove si è una poesia? Senza di me. Cosa ci fai dentro a quel lento in mezzo, dove è fermato il tempo, sul fondo degli occhi tuoi? Cosa ci fai dentro a quel lento in mezzo, dove è fermato il tempo, sul fondo degli occhi tuoi? Senza di me, senza sorrisi che ti mescolavi al mio caffè. E come sta la pianta che io ho lasciato senza dirla addio? E la gente ti chiede mai perché non ci sono. Che cosa ci fai? Senza di me, senza di me, la vita è stata di fumo e di malinconia. Senza di me, chi dirà quelle buonanotte? Senza di me, la vita è stata di fumo e di malinconia. Senza di me, senza di me, senza di me, senza di me. Brava! Io sono un masco abbagliato soltanto dalla milica. Questa ragazza dolcissima. Sai già tu cosa devi fare. Cosa vai dalla scuola a fare. Il presente è bellissimo. Maestro, io sono io. Lei è già andata, ti lascia una canzone. Già? Infatti ti vedo, ti vedo... Sai, lui fa un po' Aspetta per vedere se noi ci portiamo paura. Gli amori ormai siamo già grandi, capito? Non abbiamo voglia di vedere niente. Cosa posso dirti? Dopo io voglio sentire un pezzo che abbiamo prodotto per Anna Oxen per far capire un po' a tutti cosa è successo dopo. Ma io adesso per te vorrei sentire un'altra cosa con la tua luce meravigliosa. se ti va... No. Non ti va. Non è lo stesso. 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 Allora, io ti devo dire così, ma te lo dico proprio un po' ma se tu la sei un certo. Tu, tu sei fantastica. Ma sei fantastica perché sei naturale. Vai avanti così, adesso sei... Sei una bambina bellissima, capito? Cresci tranquilla, serena, unita come serena adesso e chissà mai che non ci ritroviamo fra sei mesi perché tu adesso cresci alla tua luce, capito? Sei fantastica. Quando hai fatto che ti lascio una funzione? Mia! No, non so! Io, però, io, perché amici di me, Antonella è un personaggio straordinario. Sai, ma io, con lei, 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 con lei. Purtroppo non è sempre una cantante. Ha cantato bene anche lei, capito? Invece tu sei una cantante. Quindi, adesso lavora con i tuoi insegnanti, fai i complimenti ai tuoi insegnanti perché sei bravissima e ci sentiamo presto. Amore. Un applauso. Grazie. 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 Grazie.